Lo sono sparato, lo ammato! E io non sono lo schiavo dibattuto! Questo è il tuo telefono! E lo devo mettere a spaccarlo! Allora siamo qua da Hunger Games e spiegami un po' cosa dobbiamo fare perché io la prima volta che vengo non vorrei far darmi Hunger Games è la prima region d'Italia questo è un posto dove tu vieni hai 15 minuti per spaccare tutto quello che trovi dentro nella stanza anche quelli che mi riprendono posso spaccare le persone ci stiamo attrezzando puoi avere dei manichini, puoi avere dei cartonati però diciamo che la carne viva è molto più buona la carne viva è più buona c'è un bel campo là dietro se tu ti firma non vero c'è una vanga, una bella vanga là che ci aiuta chiaramente dentro nella stanza rompi oggetti gli oggetti sono anche di vetro quindi devi proteggerti tendenzialmente quindi hai il casco con la visiera per proteggere gli occhi hai parativie questi sono come dei parastinchi da calcio li metti perché se ti tiri il piede di porco l'arma che usi sulla tibia è un bel caso diventa un problema questi sono i corpetti lo protegge dalle stagge questa è un'armatura ma qua posso usare tutto? puoi scegliere tutto quello che vuoi diciamo che questa mi piace l'arma base nostra è il piede di porco il piede di porco questo qua anche la vanga che sembra poco maneggevole ma con un'arma di distruzione di massa questa mi sembra bella pesante questa Dave in testa questa è lo più uso perché prima ammazzi poi mi seppellisci nel campo bravo sono un fottuto power ranger adesso siamo carichi siamo pronti andiamo andiamo a spaccare andiamo andiamo buon day io sono barbuto ma non ho la barba siamo qua per scatenarci ragazzi oggi spaccavo tutto questo è per te dun 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 turun turun madonna raga è bellissimo eh no non funziona una volta è stata abbastanza dura vabbè ma io direi lancialo bravo turun 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 dovrebbe che non funziona non si spacca questa ma lancialo per terra sto modem che non prende mai questo qua che cos'è? te l'ho detto che devo cambiare il computer ma è questo qua quello nuovo? no questo è quello vecchio che dobbiamo demolire ah ok abbiamo cambiato l'attrezzatura qua si ma io non ti sento carico Giuse faccio un lancio si come lo chiamiamo questo lancio lancialo a barbuto ovviamente lancialo a barbuto sempre piaciuto adesso ti scapeno che arma vuoi Dave? o uso una mazza o vado di piedi porco vai piedi di porco allora cosa offre la casa da rompere? spacca e ok a barabaccio ci scolgo cosa rompe bravo abbiamo visto che quelle mazze non sono capaci quindi e via questo è perché io non sono uno schiavo di balluto a te perché anche se ci conosciamo da poco ti voglio già vedere quindi auguri che peccaculo sei un leccaculo allora facciamo un super brindisi prendiamo questo ok ci sei? si marlomino che campione stai cercando campo? sto cercando sto cercando un'altra frase è una fantastica trasmissione no sono baffi ma ammazza vampiri 3 2 non è colso l'acqua naturale come ti senti? pausa pausa vai teo vai teo no cazzo fai di qua no no matteo matteo carico ti vuole staccare sta bottiglia ok? vai voglio un missing il barbuto si uomo sempre è piaciuto lancia sta bottiglia ti ammazza la famiglia non ce la fa ma ti apreci proprio una mazza matteo matteo borroni se prendi questa i baglioni vai borroni borroni hai uno e due e tre allora qua abbiamo spaccato di tutto ragazzi abbiamo proprio spaccato di tutto ma c'è una cosa che ancora non abbiamo rotto dave questo qua non è mica tutto da dove no no si zio adesso che devo fare io e zio te ne compri uno nuovo perchè? io non lo so vabbè dai toh 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 se la prossima volta lo lasciano nell'armaghetto ma che cazzo ma non era il mio zio ma che cazzo il telefono è eh hai preso per il culo in che senso sono completamente distrutto ma mi sento rinato è così divertente spaccare le cose spero vi siete divertiti lo scherzo è venuto alla grande non so se avete visto la faccia di Dave ma era bianca Dave non mi perdonerà mai per questo sappi che te la farò pagare da quel barbuto è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video